Grazie a tutti. E' stata un'esperienza bella e interessante anche grazie all'ambiente che ho incontrato, giovane, dinamico, in cui è stato possibile anche instaurare relazioni al di là dell'esperienza lavorativa, quindi umane e di amicizia che spero continueranno anche al di fuori della conclusione di questo anno. Ciao, sono Francesca, ho 23 anni. E' la mia scrivania dove lavoro qui a gennaio perché sto facendo il servizio civile. Il tutto è iniziato a causa di una mail che mi ha mandato una mia amica in cui mi diceva che c'era questa opportunità. E quindi mi sono informata sulle ACLI, ho conosciuto le ACLI un po' su internet, poi venendo qui le ho potuto conoscere meglio. Devo dire che è veramente una bella esperienza, questa di appunto di fare il servizio civile perché dà anche un'opportunità di approfondire alcune conoscenze che poi un giorno risulteranno utili nel mondo del lavoro. Io per esempio ho imparato a gestire un sito internativo che è di informatica, ma non ho mai capito nulla, invece ho scoperto che sono abbastanza bravina e che mi piace anche. Poi ho anche dato una mano al corso di informatica per gli immigrati, quindi è un'esperienza bella anche perché c'è un ambiente giovane. Ciao! Daniele Tondi Ciao, sono Daniele, ho 26 anni e tuttora sto facendo il servizio civile. Ho iniziato a fare questo percorso grazie a un mio amico che mi ha parlato di questa realtà del servizio civile per l'appunto e mi ha parlato delle molteplici attività che si fanno qua, come aiutare le persone e fare tante altre cose inerenti al servizio civile. Ho iniziato a fare questo servizio civile e ho scoperto di fare cose che ritenevo prima impensabili, ho incontrato tante persone, ho legato con tanti amici e può servire un'esperienza di vita che può maturarti più di quello che normalmente si pensa. Vi consiglio vivamente di partecipare alla selezione del servizio civile. Grazie a tutti! Grazie a tutti!